Ciao 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 a tutti da Svideo! Allora, comunicazione per tutti quelli che hanno partecipato al torneo Svideo Marco e comunque non solo a loro, a quelli che magari sono intenzionati a fare un altro torneo perché abbiamo deciso io e Marco che non si può continuare il torneo come l'avevamo preparato il torneo fatto a gironi con gruppi e gironi fatto nella maniera come l'avevamo preparato perché purtroppo la gente non si presenta, cioè magari si presenta un duo e non si presenta il duo sfidante e quindi è stato un traffico. Io e Marco in 5 live fatte, delle 24 partite ne sono state fatte 10, 10 partite in 5 live, cioè non si può perché ci sono dei gruppi che praticamente c'è stata solo una partita, nel gruppo B c'è stata solo una partita nel gruppo C una partita e basta, nel gruppo D due, solo nel gruppo A i più bravi, cioè nel senso più bravi almeno hanno partecipato attivamente a diverse live quindi Asuna con Atlante e Arctic e Disco però davvero non si poteva andare avanti così quindi cosa abbiamo deciso? Faremo il torneo in maniera classica server coppie classico, torneo server coppie classico lo faremo il 28, sabato 28 settembre alle ore 21 chi c'è 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 c Se avete visto durante le live l'impossibilità, proprio io ho appena adesso chiuso una live lì perché veramente ero la disperazione perché fai una cosa bella fatta in un certo modo e la gente non parte. Però è anche vero, capisco che adesso c'è la scuola e quindi molti hanno problemi alla scuola, poi quindi il fatto della scuola, quindi magari alcuni non possono fare tardi, quindi alla sera tardi non possono venire, alcuni non possono essere presenti a pausa pranzo, quindi c'è la colpa, insomma. Però, però è andata così, dai, diciamo che è molto più difficile fare un torneo gironi su Fortnite fatto in questo modo, molto più complesso, organizzare, cioè più che noi organizzare che siete organizzati voi con i vostri duo e poi deve esserci lo sfidante, quindi ci sono troppe incognite. Va bene, dai ragazzi, mi dispiace per quelli che hanno fatto le partite, però dai, abbiamo fatto le partite così, ma niente. Niente, prossimo, il torneo si trasforma, il torneo si trasforma in un torneo classico server coppie su Fortnite, ore 21, il 28, sabato 28 settembre. Non c'è, basta che siete iscritti al mio canale, non so se c'è anche il canale di Marco De Monsura, adesso non so se c'è l'attivo il canale. Comunque basta così, non serve che iscriviate e partecipo, voi vi presentate alle 21, sabato 28 settembre. Ok, e chiedo scusa, ma perché non ha senso, cioè qualcuno mi ha detto elimina tutti quelli che non hanno partecipato. Eh, vabbè, e allora rimaniamo con 5 persone, facciamo il torneo in 5 persone. Dai, non si può fare. Niente, dai, tutto chiaro. Io ringrazio sempre tantissimo Marco De Monsura perché lui era partito tutto da un'idea, questo sarebbe stata una cosa bellissima. Però abbiamo visto là che è complesso, è complesso proprio dal punto di vista che non ci sono le persone, non si presentano. E quindi, e quindi per il torneo partecipate, partecipate sabato 28 settembre ore 21. Boh, ciao, ciao a tutti.